Il 68% degli italiani ama gustare ogni boccone senza lasciare nulla nel piatto, è quanto emerge dall'indagine condotta da YouGov e commissionata da Barilla. Nonostante ciò, molti si sentono inibiti da Galateo nei contesti formali. Tra coloro che adorano la scarpetta e la fanno in contesti informali, il 60% si autocensura quando va nei ristoranti. In questo contesto si inserisce la pasta Barilla al bronzo, che grazie alla sua caratteristica texture ruvida cattura perfettamente ogni condimento, permettendo finalmente di godere del sugo fino all'ultimo boccone. Nella nuova campagna Barilla al bronzo è dunque la pasta che fa la scarpetta, celebrando rituale della tradizione italiana in ogni occasione, a casa come al ristorante, rendendo un gesto informale adatto anche ai contesti più esclusivi e raffinati. Katia De Sogus, direttore marketing di pasta Barilla Italia. Abbiamo scelto la scarpetta perché è un gesto molto iconico, che gli italiani amano e che associano a quel piacere intenso che si prova nel momento in cui si riesce a consumare tutto il contenuto di un piatto fino all'ultima goccia di sugo. Ed è proprio quello che si riesce a fare quando si consuma pasta Barilla al bronzo, perché ha una particolare ruvidità che la rende perfetta per avvolgere, per abbracciare, per raccogliere tutto il sugo all'interno dei piatti. Negli ultimi anni la moderna percezione delle esperienze culinarie ha guidato un'evoluzione del galateo, ridefinendo anche le ricette d'alta cucina e i modi in cui vengono gustate, come evidenzia l'esperta di Vonton, Elisa Motterle. La tendenza informale attraversa un po' tutti gli ambiti della nostra società, dal vestire al comunicare e anche al mangiare. Quindi come nessuno si veste più in completo tre pezzi con la camicia e la cravatta tutti i giorni e nessuno manda più le lettere scritte con la piuma d'occa, ecco che anche gesti che una volta erano considerati molto informali e da riservare a un ambito domestico diventano oggi un po' più sdoganati e anche riscoperti proprio per il loro valore conviviale.